Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento mattutino delle 6.45 con l'informazione rosso-nera. Milan.soccer tutte le mattine e poi all'ora di pranzo. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, è gratuito, ma per chi ci vuole veramente bene, beh, l'abbonamento. L'abbonamento prevede due possibilità, una a 0,99 centesimi e vi dà la possibilità di entrare in empatia con noi, di iscriverci, di dialogare direttamente in chat e poi anche la possibilità con 2,99 euro invece di guardare dei video in esclusiva, video a voi riservati. Vi stiamo preparando delle cose molto carine e spero che arrivino al più presto, intanto ci sono tantissimi video riservati già da adesso agli abbonati, qui sotto, abbonati. E poi, link in descrizione, l'applicazione gratuita numero 10 che vi dà le informazioni sul calcio, notizie e quant'altro, tutto quello che vi serve per rimanere aggiornati 7 giorni su 7 H24 e ancora, sempre in descrizione, il nostro libro, Romanzo Milan. E allora cominciamo. Avete visto la copertina? Bene, se avete visto la copertina adesso ne parleremo approfonditamente perché qualche tempo fa, anzi iniziamo come con i bambini, C'era una volta, qualche giorno fa, un nostro servizio in cui vi abbiamo raccontato che la nuova tendenza del mondo, così, diciamo in generale legato alle squadre più importanti come al Ali, al Nasr, del mondo dell'Arabia Saudita, Beh, ha cambiato atteggiamento, ma in generale quel mondo lì ha cambiato atteggiamento nei confronti dei club europei, e cioè piuttosto che andarli a comprare, arrivano con fior fior di milioni e si aggiudicano i migliori calciatori, quelli più importanti. E allora strane voci girano, altro servizio che abbiamo fatto qualche giorno fa, ma non tutti cedono a queste tentazioni. E sì perché, in copertina, se l'avete riconosciuto, abbiamo messo un giocatore che è ormai agli sgoccioli con l'esperienza rossonera, tanto che il buon Pioli non l'ha neppure convocato per la tournée negli Stati Uniti d'America. È un momento di cambiamento, diciamocelo francamente, tante cose stanno cambiando, tante ancora dovranno cambiare, per cui bisognerà riequilibrare il nostro modo di pensare, non tanto al Milan, quanto a quelli che sono i nuovi protagonisti. E noi stiamo pronti ad accoglierli tutti e a far tifo per loro. Però bisogna anche ringraziare quelli che hanno partecipato ad uno scudetto importante e a far sì che il Milan in qualche modo tornasse protagonista in Europa. Ci sono delle sirene però, delle sirene che ora arriviamo alla notizia di cui ho detto in copertina. Ci sono delle sirene che a me piacciono poco. Una di queste è le tentazioni che arrivano e vedremo che tipo di atteggiamento avrà questa nuova dirigenza. Su tonali abbiamo detto e stradetto, ma ci sono nuove sirene, perché una su tutti riguarda Radekrunic. Infatti il Fenerbahce ha chiesto dettagli, lumi, informazioni, fonte sport digitale in Turchia. Proprio il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi su questo giocatore, su Radekrunic. Ha chiesto non solo informazioni, ma cercare di capire quanto si possa arrivare ad una cessione. Beh, noi sappiamo perfettamente che Radekrunic è uno dei pallini di Pioli. È forse il giocatore con cui Pioli ha un maggior feeling. E infatti, andando a leggere i dati, è arrivato a Milanello Krunic nell'estate 2019 dall'Empoli e ha collezionato 125 presenze. Tre gol in quattro stagioni. Certo, non è un giocatore che segna, ma è di quantità e di possesso e di gioco senza la palla forse unico nel Milan. Detto questo, per cui staremo a vedere se mai tutto questo atteggiamento positivo della società sui centrocampisti possa portare a qualcosa anche in termini di cessione. Io dico di no perché non è Krunic l'elemento su cui poter contare per far cassa e soprattutto appunto perché, come detto, Pioli tiene a lui più di ogni altra cosa. Il Milan, torniamo alla copertina, con tanti acquisti. Ha deciso dunque di mettere il giocatore, Ante Rebic, nella lista dei partenti. Al momento le richieste per lui non sono molte. Questo ce lo dice anche Sky Sport. A proposito di Sky Sport, Sky Sport UK. Ne parliamo nel video di Mezzogiorno e 45, ma mettete, come si fa nei libri, un orecchio a questo video perché ne riparleremo. Sky Sport UK, ma torniamo a Rebic, un club dell'Arabia Saudita ha preparato un'offerta monster, si dice in generale, per il giocatore. Ben 10 milioni di euro, tradotti in euro, di euro all'anno, che però, ascoltate, ascoltate, Ante Rebic ha deciso di rifiutare. Non gradisce la destinazione. Per lui, ripeto, non ci sono grosse richieste, però attualmente preferisce allenarsi, praticamente da solo, a Milanello, in attesa di una proposta che possa essere più allettante. Peccato perché per il Milan poteva essere, diciamo così, un esubero in meno. Il Milan in questo momento ha un eccesso di giocatori e deve fare davvero una campagna vendita che impegna tanto quanto la campagna acquisti, solo che è salta meno. Oggi è un giorno speciale anche per i super tifosi perché inizia la vendita, esattamente da oggi pomeriggio alle 16, la vendita di esperienze, esperienze premium per i tifosi del Milan. Che cosa sono? Sono prodotti che vanno al di là dei biglietti per le partite o al di là degli abbonamenti. E ve le voglio elencare, se qualcuno le vuole acquistare, sito ufficiale del Milan. Rossoneri Experience, a pochi passi dallo stadio c'è il Parioli Garden che ti accoglie nel prepartita per un'esperienza culinaria. Quindi è possibile ancora fare queste particolari esperienze, come detto, e mangiare nel ristorante fuori dallo stadio di San Siro, ma anche all'interno dello stadio di San Siro. O anche a Casa Milan, infatti si può acquistare l'esperienza a Casa Milan con un servizio esclusivo di ristorazione prepartita a Casa Milan. Oppure c'è lo Sky Lounge Experience, un buffet prepartita nell'Orange Sky. Un attimo solo. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Oppure il Milanisti Experience. Insomma, tante esperienze che vi possono portare a bordo campo. Tutte queste che vi ho così sommariamente elencato, tutte queste opportunità le potete trovare direttamente sul sito del Milan. Andiamo. Bene, è questo il servizio di questa mattina. Il direttore si sta per svegliare, sarà presente nel video di Mezzogiorno e 45. Fatemi sapere che cosa ne pensate in particolare della questione relativa a Krunic. E voi, Krunic, come lo vedete? Perché spesso e volentieri, anzi, si parla un po' troppo poco di lui. E allora iniziamo anche noi a fare qualche commento. E poi, nei commenti, fatemi sapere da dove scrivete. Così, tanto per fare un Milan Club virtuale un po' sparso in giro per il mondo. È tutto per questa mattina. Passate una buona mattinata. Ci vediamo a pranzo. Ciao.